Io faccio la differenza credo perché mi riesca un po' di imitare i miei maestri e di trasmettere ai giovani questo senso di doveroso dedicarsi al metodo scientifico. Cioè un atteggiamento laico, ascoltare e riflettere su tutte le posizioni. Ho scelto Make the Difference perché, come me, condivide questi valori e li vuol trasmettere ai più piccoli perché domani saranno cittadini se avranno quel senso di cittadinanza scientifica che è il trasmettere questi valori per le democrazie che vivremo. Democrazie basate sugli avanzamenti delle conoscenze scientifiche, democrazie cognitive. Lo sostengo perché promuove la cittadinanza scientifica.